La partita ha inizio con una mossa audace di Leao, che con un palleggio magistrale sorprende tutti. Poi, con un tiro preciso, segna il primo gol dopo soli nove minuti, mandando in delirio i tifosi rossoneri. Ma la magia continua quando Ibrahimovic si fa valere con una mossa da manuale, eseguendo un asilo sombrero che lascia a bocca aperta gli avversari. Con grande freddezza, si trova faccia a faccia con ravaglia e con un destro impeccabile piazza la palla in rete. Il pubblico scoppia in un fragoroso applauso, mentre la musica si alza nello stadio. Zanoli, intanto, si lancia verso destra con grande determinazione. Con un passaggio in indietro impeccabile, serve un assist perfetto per Quagliarella, che finalmente rompe il digiuno dopo venti partite senza segnare in Serie A. Un gol che fa onore alla sua leggendaria carriera, consolidando la sua reputazione di icona del calcio italiano. Tonali è incaricato di battere un calcio d'angolo, cercando di trovare la testa di un compagno. Zanoli si avvicina, ma alla fine è un calcio d'angolo. Tuttavia, la squadra rossonera non molla, e con una spettacolare azione di squadra, si aggiudica il terzo gol Leo si fa beffe della difesa avversaria, sterzando e venendo atterrato in area di rigore. L'arbitro non ha dubbi. Calcio di rigore per il Milan. Con freddezza e precisione, Gunter porta il punteggio a 3-1. Ma il Milan non si ferma qui. Tonali sfodera un cross perfetto che trova la testa di Ciro, che in una girata acrobatica sigla il quarto gol della serata. È uno spettacolo di calcio che entusiasma i tifosi e dimostra la grande forza della squadra rossonera. E non è tutto. Il giovane talento brasiliano, Brahim Diaz, si aggiudica la sua prima tripletta con la maglia del Milan, completando così la vittoria a 5 gol contro la Sampdoria. Un trionfo che riempie di gioia i tifosi e fa respirare di nuovo la squadra milanese. Il Milan torna a brillare con un netto 5-1 sulla Sampdoria, mostrando un gioco spettacolare e regalando emozioni indimenticabili agli appassionati di calcio. Un vero spettacolo che rimarrà scolpito nella memoria di tutti i presenti allo stadio. Prima di concludere, vorremmo invitarti a iscriverti al nostro canale e attivare la campanella delle notifiche per ricevere aggiornamenti sulle ultime notizie e curiosità. Sarà un modo per rimanere sempre aggiornato su eventi di grande rilevanza come questo. Inoltre, apprezziamo molto i tuoi commenti e feedback, quindi non esitare a lasciare un commento qui sotto con la tua opinione. Grazie per il tuo supporto!